La diagnosi energetica deve essere ripetuta dall'azienda ogni 4 anni, quindi a scadenza quadriennale l'azienda dovrà ripetere la diagnosi energetica. Il primo anno, cioè l'anno 0, definiamo anno 0, cioè il primo anno in cui l'azienda ha svolto la diagnosi energetica non è obbligata a fornire dei dati misurati. Successivamente al quarto anno l'azienda dovrà fornire dei dati o meglio dovrà svolgere la diagnosi energetica avendo eseguito determinate misure nei propri impianti. Per dire le cose più semplicemente, il primo anno dello svolgimento della diagnosi energetica l'azienda può far svolgere la diagnosi energetica attraverso una determinazione analitica dei propri consumi. Un parametro fondamentale è che il modello energetico che viene determinato deve essere comunque conforme al decreto 102 2014. Successivamente, e cioè dopo 4 anni dalla prima diagnosi energetica, nel caso in cui l'azienda sia ancora energivora, la diagnosi energetica dovrà essere svolta obbligatoriamente attraverso dei dati misurati.